Musica Presidente della Spina, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione dell'Eco-Day qua nella sede del Parco Nazionale della Sila a Lorica. Un importante avvenimento targato UMPLI, Calabria e in collaborazione con l'UMPLI nazionale. Sì, abbiamo dato il via con la presentazione ufficiale di questa edizione, l'edizione 2023 degli Eco-Day. I Eco-Day sono il momento in cui mettiamo in mostra tutte le attività ambientali e naturalistiche che svolgono le Proloco in tutta Italia. Un momento per fare un po' di ragionamenti su quello che viene fatto, di proposte e allo stesso tempo di scoprire le grandissime realtà naturalistiche che abbiamo in Italia. Dopo il Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise dello scorso anno, passiamo in un'altra strepitosa realtà naturalistica come appunto il Parco Nazionale della Sila. Un parco veramente tutto da scoprire, un'eccellenza nazionale, un vero gioiello, devo dire, perché visitandolo, conoscendolo bene mi accorgo che è veramente ben gestito, organizzato e a delle peculiarità che sicuramente debbono essere messe in mostra. È quello che faremo grazie a questa edizione con una importante anche occasione che è quella di presentare la ciclovia che partirà appunto durante queste nostre giornate e confrontarsi su tutte queste tematiche che oggi sono sicuramente di grande rilevanza partendo appunto da quello che è il turismo sostenibile, emozionale, da quello che sono le esperienze di vivere la natura e sviluppare anche le iniziative di valorizzazione in modo da stare in contatto, in modo realmente sinergico con la natura senza creare impatti ma sfruttando al meglio le potenzialità e creando economia, creando opportunità di lavoro creando realmente una serie di opportunità per chi vive questi territori.